Prevediamo mille assunzioni a tempo indeterminato a tre anni dall'apertura, senza considerare tutto il lavoro generato anche dall'indotto. Amazon Italia apre alla visita del cantiere alle autorità civili e militari per il taglio del nastro, mentre i lavori proseguono a buon ritmo a San Salvo. Il 2022 è dietro l'angolo. A diversi mesi dall'inizio della trasformazione di quello che una volta era l'autoporto, l'amministratore delegato di Amazon Italia, Logistica Salvatore Schembri-Volpe, fa gli onori di casa al prefetto Armando Forgione, al sindaco Tiziana Magnacca, al presidente della regione Marco Marsilio e al questore Annino Gargano. Amazon Italia opera con 8 centri di distribuzione, 30 depositi e 2 centri di smistamento, con 12.500 dipendenti diretti, ai quali si aggiungeranno nei prossimi tre anni i mille di San Salvo. Abbiamo aperto una finestra sul futuro, una speranza per questo territorio. Sappiamo che siamo alla frontiera del commercio e anche delle attività produttive, così come si sono voluti negli anni, ma sappiamo di aver fatto una scelta giusta. Ci auguriamo che da questo investimento nascano altre, nuove, speriamo tante opportunità. Questo rappresenterà un centro di distribuzione all'insieme dell'eccellenza di quelli che sono i nostri investimenti in tecnologie, in sostenibilità, in sicurezza e soprattutto sono certo, così come in tante altre realtà a livello nazionale e internazionale, che creerà valore.